buongiorno a tutti bentrovati anche questa volta me l'avete chiesto in tanti devo dire non avevo tempo di farlo appena sono riuscito a dedicare un po di tempo ecco che è spuntato il video sulla pf2 cominciamo a fare sul serio siamo ancora nell'ambito delle ciabatte quindi dei power filters non è un condizionatore di rete vero e proprio è un filtro di rete ma un filtro di rete adesso vedremo fatto in un modo un po diverso dalle solite cose che si vedono in giro la pf2 mk2 è una ciabattona veramente grossa le dimensioni sono piuttosto importanti il peso anche perché al suo interno nasconde un filtro di rete fatto veramente con tutti i santissimi come si suol dire quindi niente di affazzonato niente cose buttate lì è una sorta di ibrido fra le tecnologie delle ciabatte più piccoline della pf1 mk2 e le tecnologie dei condizionatori dei pc vedremo perché andiamo a tirarlo fuori dalla nostra scatola e vediamo di renderci conto che cosa c'è di interessante ecco qua togliamo un po' di imballi all'interno della scatola troviamo naturalmente anche il suo cavo dedicato in questo caso lo standard è l'lc2 cavi consigliati per la pf2 beh dal lc1 all'lc3 evo poi forse l'lc3 dal momento che costa come tutta la ciabatta è una scelta un po' estrema in questo caso però assolutamente consigliabile se uno vuole avere quel livello di prestazioni massimo che può ottenere da questo distributore di rete da questo filtro nel nostro caso come standard l'lc2 evo che mi sembra una scelta veramente equilibrata in termini di costo ma anche di prestazioni perché riesce veramente a tirare fuori un po' tutto quello che deve tirare fuori da questa ciabatta senza insomma arrivare a costare come la ciabatta stessa via un po' di cartone via un po' di schiuma e interessiamoci della nostra ciabatta allora dicevamo dimensioni assolutamente generose peso di conseguenza la particolarità di questa ciabatta è che oltre ad avere un interruttore di accensione e di funzionamento dei filtri questo AC il led blu c'è un secondo led che appare sulla parte superiore che è un led rosso contrassegnato come PE PE è la sigla di phase error questo led si accende quando l'alimentazione della ciabatta quindi il cavo che va dalla ciabatta al muro è collegato contro fase cioè se è collegato giusto il led quindi ciabatta e filtri in fase il led è spento se è collegato sbagliato il led è acceso e quindi bisogna girare la spina nella presa a muro c'è anche un altro evento che fa accendere questo led un problema di cablaggio della terra ecco se il vostro impianto di terra non è a posto il led si illuminerà se la terra è completamente scollegata il led si illumina di rosso forte se la terra è una terra scadente quindi non c'è una dissipazione perfetta il led si illumina parzialmente ma lo vedete che comincia ad accendersi e quindi forse a quel punto è il caso di intervenire di controllare che cosa stia succedendo c'è da dire che al di là del fatto che un impianto senza terra non è mai un buon impianto quindi magari è il caso di controllare che cosa stia succedendo i filtri comunque lavorano anche senza terra collegata non al 100% questo è chiaro ma comunque una parte del loro mestiere lo fanno quanto al filtraggio delle interferenze questo avviene comunque il mio consiglio comunque è di avere l'impianto di terra funzionante intanto per questioni proprio legate alla regolamentazione che impone che gli impianti di casa siano collegati a terra perché insomma è anche pericoloso non avere un impianto collegato a terra va bene tu ti salva vite e tutto quanto però ecco insomma e in più perché l'impianto effettivamente collegato a terra funziona meglio ripeto se la vostra terra non funziona non è che i filtri non funzionano funzionano lo stesso allora direi che è venuto il momento 5 kg rotti di ciabatta come al solito chassis in acciaio in questo caso vedremo uno chassis più complesso più robusto della ciabatta standard le prese sono le prese gigawatt quelle presenti anche sui modelli superiori argentatura spessore senza interposizione di metalli intermedi trattamento di magnetizzante e trattamento criogenico come per tutti i contatti vediamo un po cosa si nasconde all'interno ecco qua la giriamo e non si vede molto non si vede molto perché è apparso questo grosso circuito stampato è quello che ospita i filtri e il circuito di phase detection questo circuito è molto grande ci nasconde quasi completamente l'interno della ciabatta ed è derivato direttamente dai filtri della serie pc in particolare del pc2 vediamo che occhieggiano la parte inferiore le solite barre di rame ma adesso andiamo oltre vediamo di spostare il nostro circuito stampato e di capire che cosa possiamo vedere di più ecco qua allora prima di ribaltare il tutto diamo un'occhiata alle caratteristiche di questo circuito stampato intanto vediamo che è diviso fondamentalmente in due parti la prima parte con piste più sottili è la parte del circuito del controllo deputato al controllo della fase quello che fa accendere il led e al controllo delle protezioni la seconda parte invece è cablata con tracce veramente molto grandi e se gli passo il dito sopra riesco a sentire di che spessore queste tracce sono sono metallizzazioni ad alto spessore per cui chiaramente progettate per far passare una quantità di corrente importante vediamo di alzare e cerchiamo di dare un'occhiata a quello che si vede mamma mia ecco ecco qua si riesce a malapena a spostare questo circuito stampato che è trattenuto in sede solamente dai cavi di collegamento vedete che razza di componentistica si usi cerchiamo di analizzare questo filtro che è molto semplice intendiamoci come al solito la caratteristica di Giga va a dire quella di non utilizzare filtri circuitalmente complessi che li possono anzi che limitano decisamente il flusso di corrente ma filtri molto semplici essenziali fatti con componentistica di qualità molto alta quindi con capacità di filtraggio utile veramente elevata che ci permettono di avere un flusso di corrente maggiore possibile perché ricordiamoci su queste ciabatte non ci sono i circuiti che abbiamo visto nello scorso video quello proprio dedicato alla gestione della corrente che ci aumentano l'erogazione di corrente al carico qui semplicemente tutto è pensato per non limitare il flusso di corrente quindi cablaggi che abbiamo visto sono molto importanti come spessore tanto che si fa fatica a spostare il circuito stampato sono cablaggi in rame OFC da 4 mm quadri rivestiti in teflon questo lo si può apprezzare anche proprio solo toccando i cavi si sente che l'isolante è il teflon partiamo dall'inizio nella prima parte del nostro circuito stampato abbiamo detto circuiti di protezione e controllo della fase quindi gestione dei led poi abbiamo i plasma gap e gli ultramov per la protezione da sovracorrenti e sovratensioni vi ricordo che gli apparecchi gigawatt anche i piccolini non utilizzano i classici varistori all'ossido di metallo che distorcono la forma d'onda e limitano i transienti di corrente usano questi ultramov di seconda generazione che non hanno questo genere di problemi in più questo piccolo componente è il plasma gap che cos'è il plasma gap? è letteralmente un'ampollina ermetica riempita di gas inerte con l'interno due elettrodi separati da un gap cioè da un intervallo, da una spaziatura questo gap, questa spaziatura è calibrata per far partire una scarica nel gas che si ionizza quando la tensione sui due capi sale sopra un certo livello allora quando la tensione è nei limiti questo oggetto non esiste, è un circuito completamente aperto quando la tensione sale sopra un certo livello parte istantaneamente la scarica e questo circuito diventa un corto, un circuito chiuso quindi cosa vuol dire? quando il circuito rileva una tensione più alta del limite blocca completamente, scarica questa tensione e quindi evita che la sovratensione passi, vada oltre e entri nei nostri apparecchi chiaramente questo è il primo livello, è il primo circuito che noi incontriamo dopodiché il filtro rlc, il filtro rlc che è dello stesso tipo di quelli che si incontra dal pc2 dal power prime nel nostro caso in su e allora vediamo com'è composto condensatore, doppio induttore sul nucleo toroidale, secondo condensatore e condensatori d'uscita quindi di nuovo molto molto semplice tenete conto che l'unico componente in serie con la nostra corrente è l'avvolgimento, anzi gli avvolgimenti, i due avvolgimenti che ci sono sul nucleo toroidale ora guardiamoli da vicino questi avvolgimenti stiamo parlando di 1, 2, 3, 4, 5, 6 spire 6 spire se avete visto che razza di oggetti ci sono in giro ne contate 5 volte tanto qui siamo solo su 6 spire di rame smaltato da 3 mm è una cosa del genere per avvolgere quell'oggetto ci vanno le pinze perchè per piegare quel rame non c'è macchina che tenga che io sappia quindi si tratta di oggetti fatti apposta per questi apparecchi fatti con le tecnologie gigawatt perchè se no non si riesce normalmente quando vedete questi filtri li vedete su nuclei molto più piccoli e li vedete con molte più spire che vuol dire molte spire, molta resistenza molta opposizione al passaggio di corrente nel nostro caso dicevamo poche spire a volte su un nucleo molto grande perchè lo vedete il nucleo in questo caso è veramente cresciuto tantissimo rispetto a quelli che trovavamo sulle nostre PF1 questo perchè ci permette di avere una permeabilità ancora più alta di utilizzare un numero di spire estremamente basso e di avere una capacità di filtraggio che a questo punto è veramente veramente importante questo ci permette di ostacolare il passaggio ai nostri disturbi anche quando ci siano delle correnti importanti condensatori a fil metallico come al solito fatti da Miflex per gigawatt in esclusiva non sono gli audio grade dei modelli top che abbiamo visto sul PC4 ma sono comunque dei componenti di qualità veramente molto alta cose del genere in una ciabatta non le vedrete mai di solito vi mettono dentro della robina di ben altra levatura tutto questo abbiamo visto e saldato sulle nostre tracce che abbiamo già visto sul rovescio della nostra scheda e che rivediamo sulla parte superiore perchè le tracce di questa scheda oltre ad essere in grame di alto spessore sono doppie cioè utilizza entrambe le facce del circuito stampato per raddoppiare di fatto la sezione dei conduttori quindi non è una stupidaggine è chiaro che fare tutto su circuito stampato doppia faccia con fuori passanti metallizzazioni eccetera eccetera è più costoso però abbiamo immediatamente un raddoppio delle nostre sezioni utili e quindi capite anche voi doppio della sezione metà della resistenza a seguire abbiamo le solite colonnine saldate chiaramente a fuori passante perchè abbiamo visto devono prendere entrambe le facce del circuito stampato a cui si collegano i cavi di connessione alle prese d'uscita queste colonnine chi ha seguito gli altri video le riconoscerà sono esattamente le stesse che ci sono nella serie pc stessa storia per i connettori e le viti di fissaggio che come vedete sono viti decisamente grosse perchè? perchè il serraggio di quelle connessioni è quello che ci garantisce un'impedenza molto bassa e quindi una capacità di corrente molto alta in erogazione verso il carico quindi i nostri cavetti di connessione di nuovo lo schema che si ripete è quello che abbiamo visto nella PF1 cioè tre gruppi di cavetti che vanno alle tre doppie prese in uscita ogni coppia di prese utilizza barre di rame da 30 30 30 mm quadri di sezione ogni coppia è collegata al filtro da una coppia di connessioni da 4 mm quadrati dedicati esclusivamente a questa coppia vuol dire 4 più 4 più 4 abbiamo 12 mm quadrati di rame per alimentare il nostro impianto ora con un oggetto del genere è chiaro che il limite viene dalla rete ed è anche chiaro che è il caso di usare un buon cavo per collegarlo alla rete perchè queste perdite nel tratto di alimentazione vicino al nostro impianto sono quelle che si fanno sentire di più poi sempre per i motivi che abbiamo visto nel video dedicato alla corrente d'alimentazione cioè vicino all'impianto abbiamo correnti molto molto piccate che risentono molto molto anche di piccole variazioni di impedenza sulla linea ecco quello che vediamo all'interno è che il gruppo di prese sono fissate a un doppio telaio spero che si riesca a vedere fissato a sua volta con delle viti sul telaio principale per aumentare ancora di più la robustezza di questo telaio che diventando così grande insomma perderebbe di rigidità poi le 6 colonnine anzi scusatemi le 8 colonnine su cui è fissato il filtro colonnine d'acciaio che permettono un fissaggio ottimale del nostro filtro anche se si dovesse passare sopra con un carro armato beh direi che ci siamo fatti abbastanza i fatti intimi di questa di questa ciabatta vediamo di capire un pochino a chi si rivolge un oggetto del genere perché sì è vero che è una ciabatta però adesso abbiamo sforato a listino i 1000 euro di costo ok d'accordo di roba dentro ce n'è indubbiamente però insomma ecco non stiamo parlando più di un giocattolino essenzialmente l'idea che mi sono fatto riguardo di questa PF2 arrivata alla versione MK2 è che si rivolga a chi ha un impianto di qualche pretesa ecco e non abbia posto per mettere un pc e non abbia posto per mettere un condizionatore di rete perché guardiamo dentro questa cosa ha capacità di gestione di correnti veramente molto 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 alte quindi non si spaventa assolutamente se gli colleghiamo impianti potenti complessi però rimane comunque di dimensioni tali per cui se lo vogliamo anche imboscare dietro al mobiletto dell'impianto e non far vedere niente lo possiamo fare se abbiamo un impianto installato in un certo modo in un mobile dedicato e non vogliamo stravolgere l'estetica dell'impianto stesso questa la possiamo buttare dietro al posto di una ciabatta normale grosso modo riusciamo a farci stare questa e chiaramente questa ciabatta di normale non ha più niente adesso io non voglio azzardare confronti con le ciabattone insomma cinesi che si trovano in giro ma non voglio neanche azzardare a questo punto nessun tipo di confronto con ciabatte commerciali più o meno dello stesso costo abbiamo già visto che la sorellina da 250 euro se le mangia questa figuriamoci ma cose del genere si mangiano per traverso i condizionatori di rete della fra virgolette concorrenza perché? perché sono fatte bene non è che ci sia molto da dire vedete che di esoterico non c'è niente in gigawatt sono veramente molto molto concreti nella loro progettazione e nella realizzazione dei loro prodotti per cui c'è poco da inventarsi è fatta bene, funziona bene io non mi stancherò mai di dirlo non ci sono segreti nascosti quindi un oggetto per esigenze di un certo tipo quindi impianti con qualche pretesa di raffinatezza con qualche pretesa di pregio e ci mancherebbe ma anche chi non vuole magari affrontare la spesa di un condizionatore non vuole avere l'ingombro di un componente in più nell'impianto esperienze d'uso beh ormai le più varie tipicamente chi arriva alla pf2 magari è partito da una pf1 per fra virgolette provare a vedere che cosa succede capito che c'è trippa per gatti passa alla pf2 e ottiene un qualcosa di più un qualcosa di più che si concretizza come? beh intanto ancora un po' più di raffinatezza una grana più fine rispetto a quella della pf1 una gestione più ancora più naturale delle dinamiche un respiro dell'impianto ancora migliore attenzione queste cose chiaramente vengono fuori in maniera prebotente in maniera evidente in impianti che possano tirare fuori queste caratteristiche assolutamente non vi dirò mai di collegare una pf2 quando avete un amplificatore da 300 euro ma non perché non sentireste la differenza ma perché in questo caso la differenza che sentireste comunque forse non varrebbe più la spesa cioè a quel punto lì davvero non spendete 1000 euro per una ciabatta spendete 1000 euro per un amplificatore vi prendete un alfalupi e cominciate a giocare con i bambini cresciuti chiaramente qui non c'è veramente nessuna pretesa di entry level secondo me può essere un'ottima cosa per cominciare a provare un filtro di rete serio come preambolo a un passaggio poi a condizionatori di rete più importanti su impianti importanti oppure ripeto avete il vantaggio degli ingombri tutto sommato ancora ridotti perché alla fine è una 6 prese è solamente un po' più grossa di sezione ecco però è una 6 prese la potete buttare dietro l'impianto nasconderla e dimenticarvene io spero di avervi incuriosito abbastanza e soprattutto spero di avervi risolto dei dubbi circa la pf2 visto che in tanti mi chiedevate ma guardiamoci dentro ma facciamo questa cosa e spero anche di avervi concedetemi ingolosito un po' guardando com'è costruita questa accidenti di ciabattona vi ringrazio di avermi dedicato un po' del vostro tempo come al solito io sono a disposizione per rispondere alle vostre domande contattatemi tramite il sito www.acme-biella.com trovate tutti i miei contatti se avete bisogno di chiedermi qualcosa io sono a disposizione oppure commentate qua sotto io cerco di essere sempre al corrente dei messaggi e quindi di rispondere a chi mi fa delle domande nei tempi più brevi possibili ultimamente sto correndo parecchio quindi scusatemi se non riesco a fare il botte risposta però ci arrivo non mi perdo le domande arrivo e cerco di rispondere vi chiedo magari di condividere questo video far conoscere questi prodotti a tanta gente per me ovviamente è importante perché vi ricordo sono oggetti che importo io direttamente quindi riesco a trattare in un certo modo mettete magari un like sotto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina così quando esce un nuovo video venite immediatamente notificati come si suol dire io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima occasione ciao ciao ciao